Ora è 19.40 dell'11 aprile scorso, siamo nel sottopasso che collega Piazza Verdi al parcheggio Maernusser di Bolzano. Due 17enni bolzanini vengono avvicinati da cinque ragazzi i quali da prima chiedono di consegnare sigarette, soldi e cellulare, poi innanzi al no passano alle vie di fatto a suon di calce pugna andandosene a mani vuote ed in parte insanguinate. I cinque aggressori, tre dei quali di origine straniera e due minorenni. Sono stati individuati grazie alla descrizione delle vittime che hanno riportato lesioni guaribili in 8 e 15 giorni e grazie ai servizi di osservazione del territorio della squadra mobile. L'attività di indagine che è partita dalle dichiarazioni dei ragazzi, dall'acquisizione delle telecamere del sottopassaggio, ma anche da un'attività comunque di indagine della scuola mobile, tesa a identificare gruppi di ragazzi che si radunano in centro nella zona di Piazza Verde, Via Alto Adige durante il fine settimana, è riuscita appunto a portare all'individuazione dei cinque autori di questo brutale pestaggio. Ricordo che i due ragazzi hanno subito lesioni per 15-8 giorni e soltanto l'arrivo di alcuni passanti ha sottratto i due ragazzini a conseguenze ancora peggiori.